La Santa Messa, come mai questi alpini hanno questa grande spiritualità? Se manca la spiritualità non si va molto in alto, gli alpini vogliono andare sulle cime e allora dobbiamo chiedere all'aiuto del Signore per poter camminare e andare avanti con quella dedizione, con quella passione, con quello spirito di corpo che sono le caratteristiche del corpo degli alpini, guardando avanti, guardando le cime, guardando al cielo.